L'anno scolastico non è ripreso nel migliore dei modi per gli alunni delle scuole materne licatesi. Il 2015 infatti inizia all'insegna dei problemi dovuti alla sospensione della mensa scolastica. Il servizio di refezione era stato avviato il 20 novembre senza intoppi ed è andato avanti sino alla fine delle lezioni del 2014. Ma al ritorno in classe e al termine delle vacanze natalizie il regalo di certo non ha auspicato dalle mamme, ovvero la mensa sospesa. Il comune infatti aveva affidato nel mese di novembre provvisoriamente il servizio di refezione scolastica alla stessa ditta che lo aveva già assicurato nell'anno scolastico precedente. Ma con il nuovo anno solare si dovrà fare necessariamente una nuova gara d'appalto per affidare nuovamente la mensa ai privati. Si dovrà quindi prima procedere alla pubblicazione del bando, poi all'esecuzione della gara e a tutte le procedure necessarie affinché una nuova ditta si occupi di svolgere il servizio di mensa nelle scuole materne. Tempi quindi che si prevedono piuttosto estesi. Le mamme sono in agitazione, alcune di loro sono state anche a Palazzo di Città per chiedere chiarimenti, ma non si prevedono soluzioni nell'immediato.